il tuo tempo di tempo se non si vedeva una tempesta da me chiedeva una tempesta o Bruna da tanti anni ma adesso Bruna mi ricordo anche mi piaceva quando mi sono i trei maggio adesso da Noda non mi sapeva sto proprio a usare e era a meglia oltre una bella spola ma più o meno manchi anni fa trenta anni fa eeeh pitanta che trenta anni fa si 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 e mi non vi espinei si pito pa guerra ecco ecco qualche mille colabrino e usare sto del e usare una trenta anni ad anni e era luna i pitanta non è stato giuro mi diceva ma luna dondana straordinaria ed io Bruna ma è proprio stonzele in quel soglie in quel soglie che lui mi hanno ci appoggiato da pagare il servitù e avevo servitù che il barrio era un'arrivode a guerra e sembra mi espinei che no da precede il servitù era il 13 maggio e poi la mia e poi vi ho visto un parè in quel soglie che lo vedremo dal passone del passone grosso e tempesta invece tempesta proprio tempesta no mi sembra che sia ma la mia no po' probabilmente non è dalle giotti proprio come che invece ho anche girato col mago un avir ho dit Sant Lorenz usava ma quest'ocella po' ja salio ali a matinera co la no da la que no hi ha autosurit i calava most i passaven most a sota l'vi allora fa taracita no no era dutertes era dutertes que era tempesta ca rompine no dududes ca rompine tutti i vet i cup e che se m'ha dato aves set anni ma i dududes eh ma mi me n'ha vist a cura e me n'ha vist perché dottor dizia mario se ma sorella clarencola la cara con la banyola e allora es posé se prima dududes e mi mamma e mi papà tai oi i i sorella di i l'abbiamo passato e che era detto vedi ma come tutto facciamo niente e si a fare pranzi e ho fatto che ho da febbra e io venendo tanto e poi io e boh. E mi hanno visto per l'oleto. Perché tutti erano delle mie tempeste a San Lorenzo, 10 agosto e anche qui del 68 è 10 agosto tempestato, un mese? San Lula. No ma del 68 a San Lorenzo, a San Lorenzo, 10 agosto. E allora sono cose che riturano. E allora si, allora non ho visto, se sei via e aggiungo, non ho messo, ma è davvero oltre a me riuscire, che è lì che ho presposto la sorella, andò ne piecchiali cup a fornosa e poi c'è poi cup, tutti ci vedi, ma la roba è l'abbiamo a fare. Oh, grazie. E voi più vista, ne? Sì, sì, sì. Perché ci ha votato lì, non so, un disastro. A noi capito, non ho te disastro, non ho? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.